L'Unione Europea per svolgere le funzioni previste dai trattati, meglio attualmente abbiamo un unico trattato, il trattato di Lisbona del 2007, entrato in vigore nel 2009, non si avvale solo di strutture centralizzate a Bruxelles, a Strasburgo, a Lussemburgo, si avvale anche di realtà collocate in centri periferici nei vari Stati membri dell'Unione Europea. Si tratta delle cosiddette agenzie, le quali hanno un compito di carattere tecnico, di carattere giuridico e di gestione complessiva del sistema dell'Unione Europea. Queste agenzie possono avere nomi diversi, talvolta si chiamano, più delle volte si dicono agenzie, altre volte si chiamano uffici, altre volte ancora fondazioni o centri. Non ha importanza la denominazione, si tratta del concetto di agenzia incaricata di svolgere determinate funzioni che sono importanti, necessarie per attuare il processo di integrazione europea. Abbiamo per esempio ad Alicante in Spagna una realtà che si occupa del mercato interno, della armonizzazione del mercato interno, l'ufficio per l'armonizzazione del mercato interno, ossia per la registrazione dei marchi, delle realtà che possono interessare, se dobbiamo registrare un marchio, registriamo una scritta, che sia tutelata in tutto l'ambito dell'Unione Europea, dobbiamo rivolgersi ad Alicante. Abbiamo inoltre a Parma, che in Italia, l'autorità per la sicurezza alimentare. Prima si trovava questa agenzia che si chiama Autorità per la sicurezza alimentare a Bruxelles e poi è stata trasferita a Parma, che evidentemente è una città molto significativa per quanto riguarda gli aspetti alimentari, non solo per il noto prosciutto. Ecco che qui l'Unione Europea cerca di decentralizzare per quanto possibile sue funzioni e questo ha anche uno scopo funzionale, ma anche di carattere psicologico, per far sì che i cittadini possano vedere che l'Unione Europea nel suo insieme ha delle presenze significative anche in termini decentrati nei vari paesi dell'Unione Europea. Grazie.